Addio Gallera, la giunta regionale Lombarda verrà rimpastata e l'assessore al welfare è già fuori. La Lega non lo sopporta più, un peccato ci mancherà. Con le sue uscite ci ha fatto veramente volare, ecco alcuni highlights. Il 21 maggio spiega l'indice RT a 0,51. Significa che per infettare me ci vogliono due positivi, afferma Sicuro. Non è così, non serve un triangolo, ne basta uno. Il 16 agosto Gallera pubblica un selfie con la testa fasciata. Ho preso un'inferreata giocando a paddol, confessa. 30 punti di sutura e vacanza finita. 6 dicembre, dopo una corsetta con gli amici, Gallera pubblica un selfie. E a Cernusco sul laviglio ha sconfinato, violando le regole della fascia arancione. Altra figura, però marrone. L'ultima è di fine anno, giustifica i ritardi dei vaccini dicendo che non ha intenzione di richiamare i medici dalle ferie. Il colpo di grazia che si è dato da solo. Grazie. Grazie.